Sangue durante il festival al parco albanese di Mestre. Domenica sera verso le 23 davanti a centinaia di persone un uomo avrebbe colpito un altro alla gola con un oggetto tagliente. Non è chiaro se un coltello o cocci di vetro. Qualcuno ha cercato di tamponare la perdita di sangue mentre venivano allertati soccorsi e forze dell'ordine. La polizia è arrivata poco dopo sul posto e il presunto aggressore è stato fermato nelle vicinanze dai militari della guardia di finanza emesso in stato di fermo. Potrebbe dover rispondere di lesioni aggravate ma non è escluso che possa essere accusato anche di tentato omicidio. Il ferito invece è stato soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale ma non risulta essere in pericolo di vita. Sconosciuti al momento i motivi del gesto, i due protagonisti della vicenda sono entrambi stranieri. L'organizzazione ha fermato l'evento. Difficilmente hanno scritto questo parco farà ancora parte del nostro tour in futuro. Solo la sera prima, questa volta a Venezia in Campo San Geremia, un ragazzo sarebbe invece stato picchiato per aver tentato di difendere la fidanzata molestata e presa di mira da un gruppo di persone. Tutti giovani, secondo le prime testimonianze, in preda all'alcol. Calci e pugni sul corpo e alla testa del ragazzo finché è finito a terra quasi privo di sensi. Il padre avrebbe inseguito il gruppo alla stazione dove si erano diretti dopo l'aggressione, dando l'allarme alla polfer.